In questa videoguida, vedremo alcuni consigli, per scegliere i migliori stereo compatti. Gli amanti della musica sono sempre alla ricerca dello stereo perfetto in grado di garantire la massima resa sonora. Con l'avanzamento tecnologico non è sempre facile scegliere l'impianto Hi-Fi per la casa migliore. Oggi vogliamo proporre una piccola guida con 10 tra i migliori prodotti selezionati appositamente per voi. I più esigenti potrebbero optare per impianti Hi-Fi professionali, questi sono prodotti con una frequenza compresa tra i 15.000 e i 20.000 Hz. Gli stereo compatti forniscono un'ottima soluzione per chi ha poco spazio o per chi è alla ricerca di un arredamento minimale all'interno della propria abitazione. La maggior parte supporta la connettività via Bluetooth per la riproduzione della musica preferita tramite l'utilizzo di smartphone e tablet. Per gli appassionati del collezionismo di dischi di musica è necessario orientarsi su un prodotto dotato di lettore CD mentre decisamente più raro è difficile trovare ancora qualche stereo dotato di lettori di musica 7.